Degustazione cieca con degustatori esperti, ovvero sono ricercatori al mondo dell'università, dell'istituto regionale Vite e Vino, ma anche delle associazioni, degli assaggiatori, AIS, ONAV ed operatori dell'informazione vinicola. Abbiamo qui con noi il professor Piazza, diciamo che l'organizzatore di questo evento è l'ambito dell'Eno Damiani, come si sta articolando questa giornata? Allora, è una giornata articolata appunto con tutta una serie di degustazioni, abbiamo circa 150 campioni di vino che rappresentano un po' tutto il panorama siciliano, quindi è un momento per noi di crescita perché per noi è a valenza, intanto per i ragazzi è una valenza didattica, perché quest'anno abbiamo inserito appunto una sezione giovani e stiamo facendo degustare, quindi stiamo facendo partecipare a questa nostra manifestazione, alunni dell'università, alunni dell'agrario, giustamente del tecnico per l'agricoltura e alunni dell'istituto alberghiero, questo per noi è un'assoluta novità per quest'anno, quando in realtà siamo arrivati già all'ottava edizione, appunto lo vediamo sempre come un momento di crescita, ma anche per gli stessi degustatori, perché le commissioni che andiamo a creare appunto sono molto eterogenee fra di loro, quindi dando ognuno di loro un taglio diverso nella degustazione e comunque viene considerato da noi e da tutti, devo vedere perché quest'anno me lo stanno dimostrando, un momento di crescita anche fra i professionisti, perché un degustatore Onav è una cosa, un degustatore dell'Ais è un'altra cosa, un enotecnico, un tecnico che ha prodotto il vino è un'altra cosa, quindi facendo delle degustazioni così miste si ha una crescita per ognuno, per tutti, quindi è considerato una gran bella cosa per noi. Forse una degustazione alla cieca come si fa nei concorsi, ciò ci fa capire che ci sarà anche un'attribuzione di un putteggio? Sì, sarà un putteggio, ma che per noi questo ha una rilevanza secondaria, perché la nostra non è una gara, è solo un voler rappresentare tutti i vini, la nostra manifestazione ha quasi esclusivamente valenza didattica per i docenti e anche per i professionisti, non sono dei vini in gara, ma è una rassegna di vini anche per conoscenza nostra, perché conoscere il patrimonio dei vini siciliani è praticamente impossibile, visto la varietà e la quantità di vini prodotti nella nostra regione. Questo ci consente comunque di apprezzare a tutto tondo i vini della nostra terra, di tutta la Sicilia. Questo avvicinamento fra i giovani, i nuovi elevi del mondo vinicolo e gli esperti, molti volte conosciuti, abbiamo visto nei tavoli, può essere un avvio di un inizio di lavoro? Certamente, stiamo iniziando, come ho detto, quest'anno per la prima volta, però va da sé che il corso di enologia e vitivicultura c'è sempre stato qui all'Istituto Agrario, quindi stiamo introducendo anche questa fase di degustazione, ma di enologia e vitivicultura se ne è sempre parlato all'agrario. Quindi è un passo avanti nella degustazione che va dalla bottiglia in avanti, perché fin quando si faceva il vino si parla solo di tecnici, ma al momento in cui il vino viene confezionato c'è un altro tipo di tecnico, quello che dovrà proporlo, quello che dovrà venderlo, quello che dovrà promuoverlo e questo in una zona turistica, vocazione turistica come è in Marsala, penso che sia fondamentale. Professor Corona, siamo nel mezzo delle degustazioni, come sta andando, qual è il panorama dei vini che avete assaggiato, visto che siamo alla vigilia del Vini Italy, cosa ci prospettano questi vini prossimamente al debutto a Verona? Direi che qui si stanno presentando molto bene, fino adesso abbiamo assaggiato dei vini bianchi, vini bianchi con caratteri molto spiccati, è facile osservare una crescita di questi vini bianchi nella presentazione del panorama dei vitigni autoctoni siciliani, almeno all'assaggio alla cieca, questo emerge, i caratteri varietali del grillo, del cataratto, anche di altre varietà più o meno aromatiche, con un'apprezzabile pulizia dei vini, della qualità dei vini prodotti, dalle aziende che stanno partecipando a questo concorso enologico. Le prospettive per il Vini Italy sono di grande risultato, che troveranno in questa presentazione, in questa vetrina del Vini Italy, quindi sicuramente dei vini di qualità. Lei da professore enologia, come vede questo nostro comparto vinico siciliano? Abbiamo appreso di un 6% dell'export, ma in Sicilia e in Italia si beve ancora poco vino. Beh, i numeri sì, lasciano un po' a desiderare, ancora molto si può fare. Io da docente di enologia posso apprezzare la notevole qualità che l'azienda sta mettendo avanti nel produrre vini di ottima fattura. Parliamo di vini bianchi, parliamo di vini rossi, di anche diversi rosati e di spumanti, quindi l'ampia gamma del panorama regionale dei vini proposti dalle aziende è veramente notevole, quindi la qualità si fa apprezzare. Speriamo che questa possa essere colta ancora di più dai consumatori, nuovi, vecchi e quelli che ancora si vanno approcciando al vino, nel leggere la qualità dei prodotti e confrontandoli anche con altri prodotti internazionali i quali nostri non hanno nulla da invidiare agli altri. Diciamo che pecchiamo un po' nell'immagine, nella comunicazione, purtroppo le aziende risentono la crisi, si investe poco, o non c'è una cultura di promuovere quello che è il grande terroir siciliano che è forse unico al mondo, la Sicilia è un continente vinico per la biodiversità. È vero, è vero. In altre occasioni, in altre riunioni e convegni si è discusso di questa problematica. Ebbene, il territorio di Sicilia dovrebbe essere più speso, più speso come le strade del vino, ancora più rese visibile a chi si approccia come turismo, enogastronomico, quindi far conoscere e apprezzare più i nostri territori, legandoli ancora di più ai nostri prodotti, che come dicevo la tipicità è abbastanza evidente. Quindi ancora di più le aziende devono spendersi in questo, nel marketing, quindi nel divulgare e far capire bene al consumatore quali sono quei caratteri tipici che vanno legati al territorio. Il terroir, che ha un significato molto ampio, deve essere rivisto e reso con una comunicazione più diretta al consumatore, in modo che possa legare il nostro vitigno, che può essere il grillo, che può essere il cataratto, con gli aromi caratteristici di queste varietà, così il consumatore, in un contesto ben diverso, possa evocare nel bere i nostri vini il territorio dopo aver visionato e visitato le strade del vino, come si diceva prima, quindi un territorio ben ricco e ben evidente. Professore Anagna, in rappresentanza dell'Istituto, in questi banchi di assaggio, come stanno andando e come vede il rapporto di integrazione fra i ragazzi che partecipano all'Istituto e il mondo istituzionale del vino che è qui oggi rappresentato? Assolutamente è una cosa utilissima, tra l'altro questo può sembrare apparentemente per chi ha dall'esterno un concorso, chiamiamolo, di serie B, però non è così, perché negli ultimi anni abbiamo visto che i vini che hanno avuto qui punteggi più alti e poi sono stati premiati nei concorsi più importanti a livello internazionale come il Vinitalo e quello di Bruxelles. Per cui è un fatto estremamente positivo il fatto anche di avere i ragazzi che cominciano praticamente a sentire quella che è l'importanza del lavoro di cantina con quello che risulta qui, dove c'è la sensazione sia di quelli che sono addette a lavoro che anche della stampa e dei consumatori. Lei qui oggi è daversi professore, ma ricordiamo che è un produttore vinico, una famiglia storica qui di Marsala che produce vino da decenni. Come vede il mondo vinico d'oggi? Che prospettive ci sono alla luce del prossimo Vinitali? Cosa accadrà? Per quanto riguarda noi personalmente la settimana scorsa abbiamo festeggiato i 70 anni dell'iscrizione alla Camera di Commercio, per cui significa avendo superato 70 anni che insomma abbiamo passato insieme con i nostri collaboratori e col mondo che ci circonda, il mondo tecnico e economico, abbiamo una bella fetta di storia. Sono 70 anni che prendono appunto più di tre generazioni. Per quanto riguarda il Vinitali, il Vinitali è sempre ci sono delle, è come i vini, ci sono delle annate estremamente positive e delle annate invece difficili. Quella di adesso mi viene difficile in questo momento esprimere come sarà. Ne parleremo probabilmente fra un paio di settimane, perché è come la preparazione di una battaglia che dura anni. La battaglia a volte può durare poche ore o anche pochi minuti. La tendenza della qualità dei vini siciliani in questi anni è aumentata in modo esponenziale. La qualità dei vini siciliani, per merito anche di alcuni enti che hanno fatto ricerca, l'Istituto Vitevino, anche moltissimi produttori eccetera, è andata nel tempo a salire sicuramente. E il fatto dei concorsi, dei risultati dei concorsi internazionali ce ne danno assolutamente atto. Che la qualità dei vini siciliani non è in questo momento seconda a nessuno. Bruno Fira, l'Istituto presente qui a questa manifestazione, queste degustazioni cosa rappresentano per il mondo vinicolo, anche se sono fatti in un istituto scolastico e magari non hanno sortito dalla grande pubblicità. No, invece io dico che già queste degustazioni stanno a questo concorso, sta prendendo campo negli ultimi anni perché si sta facendo sempre con più professionisti del settore. Io vedo molti sommelier, molte persone competenti del vino. E poi è molto importante perché i giovani possono apprendere molto di più e si avvicinano molto al mondo del vino e alle strutture che poi saranno il loro serbatoio di lavoro. 150 i vini che oggi saranno assaggiati da queste vostre commissioni. Allo stato attuale qual è il livello che viene fuori di questi vini siciliani e che prossimamente debutteranno al Vinitali? I vini siciliani stanno crescendo sempre di più e sempre raggiungono livelli molto alti a livello internazionale. Adesso il mondo vitivinicolo siciliano sta raggiungendo livelli molto molto alti e penso che saremo molto competitivi nel mondo nei prossimi anni. Lei che fa parte di una famiglia di venditori che si occupano di vino da anni nel territorio, come vede la viticoltura oggi? Avremmo un futuro o il 6% di aumento dell'export, ultimi dati diffusi e semplicemente un appannaggio? Riusciremo a vivere di vino in questa terra? Secondo me sì, la storia della Sicilia è imperniata alla viticoltura e noi siamo da secoli e secoli ai tempi dei fenici, dei greci, dei romani, la viticoltura siciliana era all'avanguardia e quindi dobbiamo ritornare ai vertici mondiali di un tempo e ci torneremo. La nota dolente, facciamo forse poca comunicazione, ci conoscono poco nel mondo, abbiamo bisogno di fare come i francesi, vende più fumo che arrosto. Questa è la verità, sì, abbiamo bisogno di comunicare, di comunicare e far conoscere i vini siciliani. Io mi ricordo che negli anni 90 i vini siciliani erano conosciuti per vini di media qualità, vini da taglio, da taglio in forma negativa. Poi successivamente quando c'è stato il cambiamento epocale della viticoltura siciliana abbiamo visto che in Sicilia si può produrre di tutto e molto molto bene perché il nostro clima, la luminosità, i nostri prodotti che sono poveri di pesticidi perché naturalmente facciamo pochi trattamenti sicuramente daranno qualità migliori rispetto ad altre regioni. E adesso vediamo come sta andando questa degustazione parlando con chi il vino lo assaggia per professione, per amore, per diretto come l'ONAV in questa occasione e abbiamo il delegato provinciale. Una degustazione alla cieca, 150 le bottiglie da assaggiare, un lungo lavoro, ma cosa sta emergendo? Diciamo che questa è una manifestazione che porta alla vanguardia il vino della nostra terra. Noi siamo qua in qualità di giudici del vino, proponiamo naturalmente in questo nostro territorio un maggiore assortimento, una maggiore professionalità nelle aziende vinicole e ci prendiamo anche a un controllo su questo prodotto, su questo nostro territorio. Alla luce della sua esperienza di appassionato del vino, come vede il vino siciliano oggi nel mondo tra i consumatori, lo ricercano, lo apprezzano? Ma guardi, io sono convinto di una cosa, che il nostro vino è all'avanguardia. La Sicilia ha delle vere e proprie eccellenze e soprattutto il nostro territorio è al centro della Sicilia e questa è una promozione che dobbiamo effettuare. Scusi una nota dolente, purtroppo ancora Sicilia non riesce a vivere di vino, non riesce a raggiungere quel valore aggiunto che tanto aspettiamo. Secondo lei cosa manca ancora? Qual è quella marcia in più che ci potrà portare a vivere di vino? Ma guardi, la marcia in più potrebbe essere proporre alle aziende, al consumatore le eccellenze che abbiamo. Questo con il tempo potremmo effettuare qualcosa di veramente speciale. ci stiamo riuscendo, manca poco. Quindi un abbinamento vino-prodotti tipici è questo che puoi lanciare? Sì, ma sicuramente. E oggi deve forse anche territorio fare un tutt'uno? Ma soprattutto anche con l'evoluzione dell'enoturismo. Se noi promuoviamo l'enoturismo nella nostra regione, nella nostra provincia, questo ci può dare uno sviluppo maggiore. Sicuramente sarà anche un discorso politico, ma il discorso anche dell'aeroporto e di poter portare gente sulla nostra terra ci dà maggiore sviluppo in questo senso. Ed eccoci con l'AIS, altra grande organizzazione di assaggiatori conosciuta in tutto il mondo qui a questa degustazione. Cosa sta emergendo? San Corriguez. Sta emergendo due aspetti, uno positivo e uno negativo. Cominciamo da quello positivo, che i vini sono fatti sempre meglio. Quindi dei prodotti tecnicamente di buona, per non dire ottima qualità, da poter proporre a tutti veramente con orgoglio. L'altra, purtroppo, che molti si rassomigliano. La biodiversità di cui si parla? La biodiversità dovrebbe essere curata con grande attenzione in vigna e non modificata, alterata in sede di vinificazione. Al di là di questa degustazione che è prettamente tecnica, lei e i ragazzi, gli uomini e le donne dell'AIS girano il mondo per proporre i vini. Qual è l'immagine che si ha del vino siciliano? Il vino siciliano sicuramente è in crescita, come credibilità, perché dopo un primo momento in cui si sapeva veramente poco in giro della Sicilia e c'è stata una grande esplosione, poi sono cominciati a nascere tutta una serie di luoghi comuni, comuni abbastanza e purtroppo frequentati, come tutti i luoghi comuni, sul vino siciliano e che parlavano di vini estremamente muscolari e poco eleganti. Adesso invece comincia ad emergere anche una grande propensione a produrre, a proporre al pubblico dei consumatori dei vini che presentano aspetti di grande eleganza. Quando questo percorso sarà completato, mettere insieme potenze d'eleganza, probabilmente sarà la sintesi che ci darà il successo definitivo. Il tempo sarà da ragione all'AIS, oggi si parla di fare sistema, abbinare il vino alle eccellenze dell'agroalimentare, io direi ad aggiungere anche il territorio, quindi creare questo trittico. Sì, questa è la nostra missione da sempre, noi in Italia e nel mondo, perché la nostra organizzazione con proprie sedi opera anche nei più importanti paesi del mondo dove si consuma il vino, dove si consuma in particolare il vino italiano, ci siamo posti l'obiettivo di promuovere le eccellenze del nostro agroalimentare in abbinamento al vino, perché riteniamo che il vino sia da sempre, anche culturalmente, il compagno della vita materiale dell'uomo ed in particolare questa consolidata, profonda ed antica amicizia si consolida a tavola dove il vino riesce a ridare equilibrio alle tante preparazioni gastronomiche che magari non ce lo avessero proprio. E quindi il vino è importante ed è importante apprezzarlo e degustarlo a tavola perché ci dà la possibilità di comprenderne meglio le qualità e le caratteristiche. E adesso parliamo con chi il vino lo fa, chi il vino lo produce dalla terra, dalla vigna fino alla cantina, fino alla bottiglia, quindi un esponente dell'Astrenology Sicilia. In questa manifestazione cosa sta emergendo dalle degustazioni? Allora sicuramente sta emergendo che il livello qualitativo medio è molto alto. Vini interessanti, vini di territorio, si sta spingendo molto sui vini ricchi di frutto, ricchi in freschezza, quindi vini che si approcciano a un consumo fresco, a un consumo giovane, in quanto appunto i produttori si vede che sono rivolti appunto a un mercato emergente, a un mercato dei nuovi consumatori e ripeto il livello qualitativo è molto alto. Sicuramente in questa vendemmia 2016, in quanto diciamo la maggior parte dei vini, appunto soprattutto i bianchi derivano da questa vendemmia, è stata un'ottima annata e di conseguenza i vini sono un po' lo specchio dell'annata che è stata, dell'annata trascorsa. Abbiamo accolto poco fa nell'intervista del delegato dell'AIS, della provincia di Trapani, che diceva in questa degustazione sta vedendo che molti vini sono uguali, quasi doppioli l'uno dall'altro, ma la biodiversità di cui si parla che fine ha fatto? Allora, la biodiversità sicuramente c'è da un punto di vista varietale, parlando di vini, ripeto, giovani, riguardante la vendemmia 2016, inizialmente sono vini appena emottigliati, quindi c'è un pochettino di... Una revolversi. Siamo esatto, sono in una fase ancora di evoluzione, in una fase in cui il massimo dell'espressione aromatica deve ancora uscire fuori. Questo appiattimento forse non è da un certo punto di vista anche un difetto, in quanto è un appiattimento volto verso l'alto, quindi è un miglioramento qualitativo di molte aziende, che ha portato quasi a un livello qualitativo medio-alto, e di conseguenza i vini comunque si somigliano un pochettino, anche perché il territorio di provenienza comunque è lo stesso, non parliamo di vini di regioni differenti, parliamo di vini, diciamo, di territorio, vini figli della stessa annata, comunque vini, diciamo, in cui appunto il potenziale organolettico ancora deve essere espresso. Lei, oltre ad essere qui come astroenologi, nella vita lavora in una delle aziende più note del territorio, una delle più importanti in Italia, come vede l'approccio adesso della Sicilia al prossimo Vinitaly, da esperto del settore? Sì, allora la Sicilia sta partendo, diciamo, io lavoro per un'azienda, Donna Fogata, appunto, che è un'azienda che guarda molto il consumatore, e produce appunto per il consumatore. La Sicilia sta partendo, diciamo, con molta forza appunto verso il Vinitaly 2017, in quanto soprattutto con l'avvento della DOC Sicilia si sta puntando molto su questa DOC per cercare di essere presenti in Italia, ma soprattutto a livello internazionale. Infatti si sta cercando di fare delle azioni di promozione, soprattutto sui paesi terzi, negli Stati Uniti in primis, a seguire negli altri paesi comunque internazionali, che saranno il futuro traino, diciamo, al mercato italiano, diciamo, nel mondo.